Poteva mancare il vicepresidente alla prima uscita del Sansepolcro e questa partitella in famiglia, come sta andando il lavoro che sicuramente non manca in questi giorni? Il lavoro sta andando bene, la squadra sta lavorando tanto anche se in questi giorni il caldo è fortissimo, c'è tanta voglia di fare, di lavorare, il mister insieme a tutto lo staff atletico stanno facendo un buonissimo lavoro. Abbiamo sentito che il Sansepolcro rischiava di scomparire dal panorama della Serie D, c'è stato questo nuovo ingresso in società importante, soprattutto anche per dare seguito a un settore giovanile che ha dato tante soddisfazioni negli ultimi anni. Più che mai sarà per scomparire il caldo Sansepolcro, rischio di raccogliere, ora ancora se si parla di Serie D è prematuro saperlo perché non abbiamo le conferme da Roma, però ci stiamo attrezzando per poter fare al meglio quello incantrato. A cui siamo da vent'anni siamo stati conti a fare con le società di incantarmi, adesso la società nuova ha sposato questo progetto di ristrutturare il calcio a Sansepolcro, di dare un'opportunità soprattutto alla prima squadra, anzi alla prima squadra ma soprattutto al settore giovanile, perché c'è il rischio che 300 bambini, più di 300 bambini da 7 anni potessero essere a casa, quindi se assieme all'amministrazione comunale ha fatto un percorso, ci sono avvicinate alcune aziende anche importanti e altre probabilmente speriamo che si avvicineranno a questo progetto per poter dare continuità a questo sport importantissimo a Sansepolcro. Parlare di mercato è prematuro, attendete una risposta da Roma prima di muovervi, di fare ulteriori innesti oppure vi state già muovendo? No, il direttore generale Ivano Becci sta già lavorando sul mercato e in questo momento le valutazioni sono fatte, c'è una rosa importante, ricordiamoci che l'anno scorso il Sansepolcro calcio con la rosa che aveva ha avuto un buonissimo risultato, sono andati via a parte l'allenatore e poi è andato via il poltiere, un attaccante e per il resto la rosa è quasi tutta confermata, quindi è una rosa importante che con probabilmente due o tre innesti potrebbe fare anche quest'anno un bellissimo campionato. Con il direttore generale della Vivi Alto Tevere Sansepolcro come si sta muovendo in questi giorni? Un organico questo che abbiamo sentito il vicepresidente è stato riconfermato quasi in blocco rispetto alla passata stagione? Sì, c'è da integrare perché obiettivamente davanti sicuramente mancherà qualcosa, però secondo me è giusto anche valutare bene prima tutto l'organico a disposizione di Mr. Fani e aspettare qualche giorno per poi fare delle valutazioni molto più esaustie e appropriate, quindi in questo momento secondo me dobbiamo muoversi con piedi molto per terra perché ogni disamina è molto aleatoria, essendo proprio dal 25 che abbiamo iniziato il ritiro, quindi è ancora credo che sia prematuro trarre delle conclusioni. Per quanto riguarda la rosa ci sono due giocatori in prova, fra questi c'è anche Andrea Iozzia che ha un trascorso nella San Sovino. Non parlerei di prova quanto di aggregati, i ragazzi che vivono nel circondario sono chiesti di allenarsi con noi e noi ben volentieri li abbiamo ospitati anche perché sia Bartoccini, sia Iozzia che Giulio Corini in questa categoria sono sicuramente delle prime scelte, quindi non sono in prova ma sono aggregati in attesa di eventualmente se è la loro disponibilità in qualche maniera di poter valutare, se poter ritenere bene. Il San Sepolcro sarebbe più che contento di tenere questi giocatori? Sicuramente sì, però ci sono dei ruoli magari già coperti, quindi bisogna valutare non se sono all'altezza del San Sepolcro, ci sono sicuramente all'altezza, per San Sepolcro sarebbero un lusso, c'è solo da valutarli se nel nostro organico in base ai ruoli già ricoperti possono trovare spazio. Mister Fani riparte sulla panchina del San Sepolcro dopo l'avventura sulla panchina del San Giovanni Valdarno, come stanno procedendo questi primi giorni qui a Gragnano? È caldo, no bene dai, questo è il quarto giorno, credo che i ragazzi si stanno impegnando tanto e che il lavoro sia un bel lavoro fatto. Ha fatto delle richieste alla società per quanto riguarda il mercato oppure ancora state aspettando? La società sa indipendentemente da quello che può essere il mio pensiero, sa benissimo cosa manca in base anche a chi è andato via. Per quanto riguarda la preparazione, come prosegue adesso il calendario? Noi facciamo tutti i giorni, la prossima settimana e anche quella dopo. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, i campionati sono squadre che sono attrezzate tipo Arezzo, noi cerchiamo di fare solo il nostro meglio, di valorizzare i giovani e di fare il meglio possibile.